Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La tragica scoperta è arrivata pochi minuti fa, finalmente dopo sette anni si fa luce su un caso molto spinoso che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso. Finalmente è stata fatta chiarezza, tutti sotto shock. Stiamo parlando di Maria Chindamo, aveva 42 anni quando fu rapita e scomparve il 6 maggio del 2016 a Limbadi, in provincia di Vibo Valencia. Dopo sette anni, grazie al lavoro d'indagine dei carabinieri coordinati dal procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, è stato arrestato colui che si ritiene essere il suo assassino. Oggi l'aria ha il profumo della giustizia, ha detto suo fratello, Vincenzo Chindamo. Avere perseguito per tutti questi anni la ricerca della verità sull'uccisione di mia sorella alla fine ha dato risultati. Non ho mai smesso di credere nell'operato della magistratura, anche quando ci poteva essere qualche momento di sconforto. E quanto è emerso oggi premia quella perseveranza. La maxi-operazione della direzione distrettuale antimafia nell'ambito dell'indagine maestrale Cartago, ha portato oggi all'esecuzione di misure cautelare nei confronti di 84 persone del mondo della politica e dell'imprenditoria, 29 in carcere, 52 ai domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra loro anche Salvatore Ascone, indicato da diversi collaboratori di giustizia come uno degli assassini della donna. A Maria Chindamo fu tolta la vita e il suo corpo fu dato in pasto ai maiali per far sparire ogni traccia. Insieme ad Ascone c'erano altre due persone, una minorenne all'epoca dei fatti e un'altra deciduta nel frattempo.